Allora, io quando facevo male, cioè quando avevo delle scene difficili andavo in panico, avevo paura di non farcela e c'è stata una scena in particolare, quella del settimo episodio con Marcerio, quando gli dico che io ho scelto Stefano al posto su e in cui io ho trovato le teleclicche, ho avuto molta difficoltà e il regista diciamo mi ha rassicurato, ha detto liberati, prenditi una manazza da te stessa, questa è la tua vita, questo è il tuo mestiere. Io vorrei dire che hai avuto difficoltà perché lasci dire a me invece e mi sei sposo come fa Marcerio, questa è la difficoltà. Allora, no, io il ricordo più bello che vi porto, raga, è che l'ho fatto, nel senso per uno che, cioè noi studiamo da quando abbiamo la loro età e abbiamo fatto tanto teatro, poche cose in tv e arrivare a una cosa del genere, cioè per noi, per un attore che fa questo da 15 anni, che studia da 15 anni è straordinario, quindi per me il ricordo più bello è averlo fatto e mi ricordo più bello che è la seconda stagione che ancora dobbiamo fare. Vi dico solo questo.